Direttamente da ExoticShorter.it, il primo blog multimediale dedicato ai gatti esotici, io sono Marco e oggi ti segnalo un nuovo cucciolo esotico disponibile presso l'allevamento Fashion Stars di Torino. Il cucciolo, un exotic shorter di colore Red Tab Blotched, è nato il 22 settembre del 2011. Attualmente è disponibile. Se vuoi avere maggiori informazioni riguardanti il cucciolo, chiama i numeri che vedi in questo momento in sovraimpressione.